Di Alfonso Lodato ha cominciato meglio l'Inter, chiamato subito all'uscita tempestiva Antonioli su Berti. Episodio discusso, al settimo esce Antonioli su Desideri, l'arbitro Cesari non interviene, l'intervista protesta e viene ammonito. Nell'altra area Baggio trattiene Rijkaard scattato su centro di Van Basten. E comunque il Milan ha a premere, Van Basten impegna Zenga con un tiro violento. Al trentanovesimo l'Inter resta in dieci, Desideri entra fallosamente su Albertini, secondo cartellino giallo. Quindi espulsione di Desideri. Prima del riposo un altro tiro di Van Basten con respinta di Zenga. Andiamo adesso con l'immagine della ripresa, subito al quinto grande occasione per l'Inter, Clisma riesce a coordinarsi per il tiro che colpisce l'incrocio dei palli. Poco oltre, dopo una punizione di Bremen, Bianchi impegna Antonioli. Poi è il turno di Zenga a fermare una rasoterra di Evani. Il gol a un minuto dalla fine, colpo di testa di Massaro e palla in rete e il gol partita che adesso potremo anche rivedere. Deviazione vincente sul cross di Fuser. A seguire sentiremo l'intervista di Franco Zuccalato a Massaro. Daniele Massaro, il gol della vittoria, un derby difficile comunque. Ma molto difficile, basta pensare che io ho avuto una marcatura asfissiante, l'unica palla che ho toccato ho fatto gol. Sono riuscito a liberarmi, bene per la squadra e bene per me.